Sono Patrizia e mi trovo nel mio negozio qui a Cagliari dove sono ormai da 10 anni e volevo raccontare la mia esperienza di donna senza figli. È stata un'esperienza che non è stata dovuta a una mia scelta, nel senso che ho avuto da piccolissima dei problemi, poi dopo se ne sono aggiunti degli altri, per cui c'è stata anche l'incapacità di poter procreare, però poi quando potevo eventualmente adottarne non ne ho voluti adottare. Non so se sia stata veramente una scelta totale oppure è stata anche una scelta dovuta al momento, al fatto del lavoro a cui mi sono veramente dedicata moltissimo a Milano, per cui un po' il lavoro ha fatto un po' da contraltare, diciamo, al fatto di non avere figli.